Illumina è un'installazione che nasce per mettere in scena una tematica piuttosto urgente e anche universale, che è il cambiamento climatico. Illumina, che è il titolo di questa prima edizione del progetto, che ha l'ambizione di ripetersi ogni anno per accendere la luce su tematiche e su questioni che riguardano tutti, facendolo attraverso l'arte, attraverso il design e l'innovazione tecnologica, nasce proprio per accendere la luce non solo su questioni che ci interessano, ma anche per, come dire, accendere la luce sulle coscienze di ognuno di noi, affinché ognuno di noi possa dare il proprio contributo in questa lotta che, come dire, abbiamo il dovere di combattere tutti quanti nel nostro piccolo. L'opera, come vi dicevo, rappresenta uno scorcio di artico, l'obiettivo era quello di portare in maniera suggestiva un pezzo di profondo nord qui nel cuore di Milano, proprio per andare incontro a quello che è anche, diciamo, un futuro più green e più sostenibile. Abbiamo realizzato un'opera che alla fine è destinata al riciclo e al riutilizzo. Che cosa vuol dire? Che parte di essa verrà riciclata e verrà utilizzata per la creazione di altri manufatti funzionali. E un'altra parte, invece, verrà riutilizzata per continuare questo processo di sensibilizzazione anche in altri contesti. L'installazione è stata pensata affinché possa vivere anche di giorno. Infatti, come potete vedere, le finiture degli orsi è una specchiatura che di fatto consente durante il giorno di riflettere il paesaggio verde circostante anche su, appunto, sulle sfaccettature degli orsi. L'opera non è un'opera solo visiva, ma è un'opera anche sonora, perché nell'attraversarla l'esperienza si arricchisce anche di effetti sonori che ricordano la natura di questi paesaggi artici. L'obiettivo è quello di colpire il visitatore, offrendergli sicuramente un'esperienza suggestiva e immersiva, ma proprio per fargli capire che si tratta di una bellezza che va salvaguardata e tutelata anche con il suo contributo. Quindi, sicuramente, il nostro obiettivo è quello di comunicare un messaggio positivo. Attraverso l'arte l'abbiamo fatto in questo modo, quindi speriamo che venga apprezzato.